Il regista Pupi Avati, Giampaolo Pansa, Pierfrancesco Pingitore sono tra i vincitori del premio Acquistoria 2013, premiati al Teatro Ariston di Acquiterme. L'Acquistoria, voluto per ricordare l'ecidio della divisione Acquia-Cefalonia nel 1943, è un'occasione che da 46 anni fa parlare del Piemonte in tutta Italia e all'estero, grazie alla storia, alla letteratura e a tutta la filiera del libro, attraverso anche l'importante dialogo degli studenti con autori ed editori di livello. La mia impressione è di essere una persona soprattutto che ha vissuto 45-46 anni ormai di vita attraverso uno strumento che è il cinema, e quindi attraverso questo strumento io ho potuto, ho avuto modo di testimoniare anno dopo anno quelle che sono le grandi trasformazioni, i mutamenti, il mio rapporto personale con questo paese, con la società che nel frattempo mutava e il mio rapporto personale anche con la vita. Quindi una riflessione, i miei film sono un po' su quelle che sono state le trasformazioni della società, ma anche su quella che è una rendicontazione su quello che accade a una persona che diventa anziana.